Come noto a molti di voi, dall'aprile del 2016 le principali compagnie di telefonia mobile e fissa hanno stabilito di fatturare anziché mensilmente o in concadenza di ogni 28 giorni. E di questo mese la pronuncia da parte dell'Agicom, dell'autorità garante per le comunicazioni, che ha sanzionato le principali compagnie telefoniche con una sanzione di intorno ai 2 milioni di euro. Con questa sanzione molti consumatori potranno chiedere un risarcimento nei confronti delle compagnie telefoniche di telefonia fissa per la fatturazione a 28 giorni. Questo è molto importante perché colpisce tantissime persone, professionisti e non. Quindi il consiglio che mi permetto di darvi è di rivolgervi al vostro legale di fiducia il quale proverà in via stragiudiziale attraverso la procedura conciliativa innanzi al Corecom di ottenere un indennizzo da parte della compagnia telefonica e in caso di esito infruttuoso di eventualmente adire le vie giudiziali.